A questo punto è importante ritornare al capitolo 28 che in fase di introduzione avevamo visto essere il capitolo che è stato composto per ultimo nella fase finale quando il redattore finale ha messo insieme i vari testi quella che è la cornice più antica capitoli 1 e 2 i versetti finali del capitolo 42 poi nella seconda fase ha trovato il testo dei capitoli da 4 a 27 e da 38 a 42 i primi versetti in una terza fase i capitoli da 32 a 37 ha messo tutto insieme organizzando il tutto in maniera molto armonica per permettere al lettore di leggere il libro nella fase finale come unità e ha collocato il capitolo 28 che a una lettura veloce potrebbe apparire fuori luogo perché fino al capitolo 27 nel capitolo precedente c'è il dialogo tra Giobbe e gli amici il capitolo che segue il capitolo 29 Giobbe che parla poi ci sono i capitoli dove interviene un quarto personaggio i capitoli da 32 a 37 poi parla Dio invece non si sa chi pronuncia le parole del capitolo 28 inoltre il capitolo 28 si presenta come un inno alla sapienza alla sapienza introvabile o difficilmente trovabile vedremo che è possibile trovarla ma come? certo della sapienza si è parlato ma non tanto della sapienza del pensare ragionare agire da sapienti Giobbe ha detto ai suoi amici voi siete sapienti ma anch'io sono sapiente voi avete la sapienza ma anch'io qui invece si parla direttamente della sapienza tanto da poter parlare di questa sapienza con la S maiuscola ora il capitolo 28 vedremo che invece di essere qualcosa fuori luogo in realtà è la chiave di volta per capire il libro di Giobbe per capire il problema di come agisce Dio nella vicenda di Giobbe prendendo il testo vediamo che il capitolo 28 è composto da 28 versetti al versetto 12 abbiamo questa domanda ma la sapienza da dove si estrae e il luogo dell'intelligenza dov'è andando al versetto 20 ma da dove viene la sapienza è il luogo dell'intelligenza dov'è andando al versetto 28 e disse all'uomo qui Dio il soggetto ecco il timore del Signore questo è sapienza evitare il male questo è intelligenza allora nel versetto 12 nel versetto 20 nel versetto 28 ricorrono sapienza intelligenza sapienza intelligenza sapienza intelligente questi indizi ci portano a dividere il capitolo in tre parti questi versetti questi versetti sono il versetto finale di ciascuna delle tre parti quindi 1 12 13 20 21 28 leggiamo anzitutto il versetto cioè il testo della prima parte 1 12 certo l'argento ha le sue miniere l'oro un luogo dove si raffina il ferro lo si estrae dal suolo il rame si libera fondendo le rocce l'uomo pone un termine alle tenebre e fruga fino all'estremo limite fino alle rocce nel buio più fondo in luoghi remoti scavano gallerie dimenticate dai passanti penzolano sospesi lontano dagli uomini la terra da cui si trae pane di sotto è sconvolta come dal fuoco sede di zaffiri sono le sue pietre e vi si trova polvere d'oro l'uccello rapace ne ignora il sentiero non lo scopre neppure l'occhio del falco non lo calpestano le bestie feroci non passa su di esso il leone contro la selce l'uomo stende la mano sconvolge i monti fin dalle radici nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio scandaglia il fondo dei fiumi e quel che viene nascosto porta alla luce ci fermiamo un attimo qui poi rileggiamo il versetto 12 che è la domanda finale qui si parla di oro di argento di pietre preziose e si parla di miniere di cunicoli si parla di luoghi sottoterra allora qui si parla dell'attività dei minatori dove anche l'occhio rapace degli uccelli l'occhio dei uccelli rapaci non può arrivare perché ci si trova sottoterra quindi il testo vuole in qualche modo elogiare l'uomo che è capace di trarre dalla terra ciò che è prezioso per la sapienza biblica per i libri sapienziali l'attività manuale la capacità di trarre l'utile in questo caso di trarre dalla terra ciò che è prezioso è un'attività da sapienti gli artigiani ad esempio sono detti sapienti perché sanno fare sanno modellare sanno per cui qui si fa l'elogio dell'uomo faber l'uomo che fa l'uomo che lavora che si dà da fare per trarre cose preziose ma la domanda finale lascia intendere che c'è un altro tipo di sapienza allora è al pannaggio degli uomini dell'uomo faber la sapienza pratica la sapienza tecnica la sapienza di chi la sapienza artigiana diciamo ma perché dice ma la sapienza da dove si estrae è l'intelligenza è il luogo dell'intelligenza dove non è nelle miniere non è nelle capacità dell'uomo che sa andare sotto terra a cercare quindi qui ci troviamo in un testo che vuole dirci dove cercare la sapienza allora l'uomo faber che si dedica al lavoro alla sua attività non è in grado è in grado di raggiungere un tipo di sapienza ma il testo lascia intendere che c'è un altro tipo di sapienza che l'uomo faber non è capace di trovare passiamo passiamo alla seconda parte i versetti da 13 a 19 l'uomo non ne conosce la via quindi continua quindi risponde alla domanda posta nel versetto 12 l'uomo non ne conosce la via essa non si trova sulla terra dei viventi l'oceano dice non è in me e il mare dice neppure presso di me qui l'oceano e il mare sono personificati e non c'è non solo sulla terra degli uomini ma anche nell'oceano neanche nel mare non si cambia non si scambia con l'oro migliore né per comprarla si pesa l'argento qui si fa riferimento all'uomo mercator cioè una volta che ha tirato fuori dalla terra le pietre preziose l'oro l'argento deve naturalmente smerciarlo quindi si reca nei luoghi di mercato e anche questo è molto importante per i sapienti antichi perché il viaggiare il saper tessere relazioni sia pure relazioni commerciali rende sapienti è un'attività da sapienti sta parlando ecco con simpatia di chi si mette in viaggio per mercanteggiare per non si acquista con l'oro di offire né con l'onice prezioso o con lo zaffiro non la eguagliano l'oro e il cristallo né si permuta con vasi di oro fino coralli e perle non meritano menzione l'acquisto della sapienza non si fa con le gemme quindi ci si può scambiare si può comprare ciò che è prezioso ciò che ma non la sapienza non la eguaglia il topazio di etiopia con l'oro puro non si può acquistare allora c'è una sapienza di scambio che permette lo scambio che permette il viaggiare che permette il mercanteggiare ed è un'attività da sapienti ma c'è una sapienza che neanche l'homo mercator può raggiungere ma da dove viene la sapienza e il luogo dell'intelligenza dove ecco quindi c'è il fallimento della sapienza dell'homo faber e il fallimento della sapienza dell'homo mercator quindi questi non raggiungono ancora non sappiamo che tipo di sapienza è c'è una sapienza che nessuno di questi due tipi di uomini che non si parla di due distinti uomini perché ciascuno può avere capacità tecniche può essere la stessa persona che sa attrarre e poi va a mercanteggiare a vendere e via dicendo così quindi sono aspetti che l'uomo possiede nella terza parte parliamo dell'uomo religiosus vediamo adesso cosa intende si continua è nascosta questo tipo di sapienza agli occhi di ogni vivente e ignota agli uccelli del cielo l'abisso e la morte dicono adesso prima era l'oceano e il mare che erano personificati adesso l'abisso e la morte sono personificati dicono con i nostri occhi ne udimmo la fama udimmo la fama però non sapevano dove si trovasse udimmo la fama di questa sapienza finora il soggetto è sempre stato l'uomo o l'oceano il mare l'abisso e la morte personificati adesso è Dio dal versetto 23 Dio solo ne discerne la via lui solo sa dove si trovi quindi entra in scena Dio e si dice che Dio sa dov'è il luogo della sapienza conosce questa sapienza perché lui solo volge lo sguardo fino alle estremità della terra vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo quindi è onnisciente e quindi conosce quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura quando stabilì una legge alla pioggia e una via lampo tonante allora la vide la misurò la fondò e la scrutò appieno qui si fa riferimento all'attività creatrice di Dio quando Dio ha creato l'universo l'uomo comunque durante la sua attività creatrice ha avuto contatto con la sapienza questo rimanda io rimando voi se volete approfondire al capitolo 8 del libro dei proverbi in modo particolare dal versetto 22 al versetto 31 8 22 31 perché lì dice che mentre è la sapienza che parla la sapienza è personificata si presenta come una donna e dice che mentre Dio creava io ero là il libro della sapienza dice Dio ha creato con la sapienza per cui nei libri sapienziali è molto importante la teologia della creazione cioè Dio ha avuto un particolare rapporto con la sapienza mentre creava allora qui dice Dio la conosce Dio sa dove si trova perché ne ha avuto un contatto diretto durante la sua attività creatrice è il versetto e dice all'uomo ecco il timore del Signore questo è sapienza evitare il male questo è intelligenza anzitutto dove abbiamo trovato timore del Signore evitare il male il versetto 1 quando viene descritto Giobbe Giobbe uomo retto che si tiene lontano dal male ed è timorato di Dio e poi nei due colloqui di Dio con il Satan presentando Giobbe ripete proprio questo ora il timore avere il timore del Signore e evitare il male caratterizza e qualifica l'uomo religiosus l'uomo religioso cioè l'uomo che si pone nella giusta relazione con Dio è l'uomo che ha timor di Dio l'uomo che si tiene lontano dal male allora qui si viene a dire che l'uomo faber l'uomo mercator non hanno accesso alla sapienza che è conosciuta da Dio ma questa sapienza che è conosciuta solo da Dio non è trattenuta gelosamente da Dio Dio la fa conoscere non all'uomo faber non all'uomo mercator ma all'uomo religiosus per cui come dicevo prima se l'uomo diciamo l'uomo ma per dire l'essere umano l'uomo che sia è contemporaneamente l'uomo faber l'uomo mercator l'uomo religiosus se sviluppa il timore di Dio si tiene lontano dal mare se vuole ricevere da Dio la sapienza deve sviluppare l'aspetto di l'uomo religiosus si deve porre nella giusta relazione con Dio per cui questo tipo di sapienza non è conquistabile ma è da accogliersi nel libro della sapienza dove si mette in scena il sapiente per eccellenza cioè Salomone si dice che Salomone non è nato sapiente è nato come tutti ma si è reso conto che la cosa più importante era la sapienza si è innamorato della sapienza ma si è reso conto che la sapienza non era acquistabile se non chiedendola a Dio con la preghiera e allora si è impegnato a pregare questo fa riferimento al racconto che abbiamo nel primo libro dei re ma capitolo terzo i versetti da 4 a 15 dove si narra che appena eletto re Salomone giovanissimo si reca al santuario di Gabaon e lì ha un sogno nel sogno Dio gli chiede cosa vuoi che io ti conceda e lui dice ma tu mi hai posto su questo popolo al posto di mio padre Davide lui è stato capace di guidare il popolo ma io sono un ragazzo come faccio ti chiedo la sapienza del cuore anche se alla lettera sarebbe lev shomea lev shomea cioè un cuore che ascolta questo è molto importante perché ci dice in che cosa consiste la sapienza un cuore capace di ascoltare nel caso concreto di Salomone che è re ascoltare ha un significato diciamo che implica un ascolto stereo nel senso che il re deve ascoltare il popolo la gente le esigenze del popolo per rispondere con giustizia con benevolenza e risolvere i problemi della gente deve ascoltare la voce di Dio che gli indica come Dio dà la sapienza all'uomo religiosus quindi se si vuole ottenere questa sapienza bisogna sviluppare l'atteggiamento proprio dell'uomo religiosus quindi il timor di Dio ora io prima ho fatto questa affermazione il capitolo 28 questo inno alla sapienza alla ricerca della sapienza come trovare la sapienza rappresenta una chiave di volta nel libro di Giobbe devo giustificare questa mia affermazione abbiamo detto abbiamo visto gli amici hanno smesso di parlare Giobbe ha smesso di parlare perché perché parlando attraverso il linguaggio della teologia attraverso il linguaggio della preghiera il linguaggio del dubbio non hanno raggiunto la la possibilità di capire come si pone Dio di fronte alla sofferenza di Giobbe quello è il problema Dio è come dicevano gli amici che sta castigando Giobbe perché Giobbe è un peccatore o come tante volte Giobbe aveva detto a Dio non importa nulla lui anzi sembra quasi che faccia più soffrire i giusti che non gli empi comunque il problema è irrisolto allora possiamo dire che nei loro discorsi e Giobbe e gli amici hanno parlato da Homo Faber e da Homo Mercator cioè le loro possibilità di sapienti arrivano fin lì arrivavano fin lì non potevano andare oltre e le possibilità che essi avevano non arrivano alla soluzione del problema Giobbe del problema teologico della questione Giobbe occorre una sapienza superiore una sapienza che non è appannaggio né di Giobbe né degli amici o meglio possono accedere a questa sapienza ma solo chiedendola a Dio mettendosi in un atteggiamento di ricezione in un atteggiamento di ascolto quindi c'è bisogno della parola di Dio della parola di Dio non c'è più la parola degli amici non c'è più la parola di Giobbe occorre la parola di Dio chi è nella disponibilità di accogliere la parola di Dio ecco che può fare un avanzamento per arrivare a comprendere il modo di agire di Dio ora possiamo facendo una piccola parentesi richiamare Genesi 2 3 in Genesi 2 3 si narra di Adamo ed Eva del peccato della caduta Dio dice ad Adamo tu puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell'albero che sta nel mezzo del giardino l'albero della conoscenza del bene e del male non devi prendere che cos'è questo albero della conoscenza del bene e del male bene e male conoscenza del bene e del male senza star qui a dilungarci troppo è l'albero della sapienza è l'albero della sapienza allora ci chiediamo perché Dio dice ad Adamo che non deve prendere del frutto della conoscenza del bene dell'albero della conoscenza del bene del male è mai possibile che Dio voglia una umanità che viva senza la capacità di conoscere il bene e il male se per essere in buona relazione con Dio bisogna tenersi lontani dal male ma se uno non ha la possibilità di discernere ciò che è bene e ciò che è male per cui bisogna intendere che Dio non aveva non aveva l'intenzione di non dare all'uomo il frutto dell'albero della conoscenza delle bene e del male voleva darlo non che l'uomo prendesse da solo la differenza fondamentale è questa l'uomo e la donna tentano di prendere da soli in maniera autonoma senza chiedere a Dio lì c'è il fallimento il peccato invece di chiedere a Dio hanno la pretesa di prendere da soli l'uomo faber l'uomo economicus che pensa di poter prendere anche ciò che appannaggio di Dio ma che Dio vuole dare ama dare alle sue creature perché le creature si mettano nel giusto atteggiamento di omo religiosus in giusto rapporto con Dio e chiedono a Dio e Dio dà ma il riferimento a Genesi 2 3 ci fa ci aiuta a comprendere anche come procede adesso il libro allora chiarito che ora occorre che Dio parli che Dio riveli occorre mettersi in assurdo della parola di Dio ora nel libro della Genesi nel capitolo 2 e 3 della Genesi c'è Dio che dice ad Adamo non devi puoi mangiare tutti gli alberi del giardino dei frutti degli alberi non devi prendere del frutto dell'albero della consenna del bene e del male poi il serpente dice alla donna non è vero che morirete anzi qualora ne mangerete diventerete come Dio nell'economia del racconto il serpente non è tanto è tentatore ma non responsabile però del peccato perché del peccato sono responsabile dell'uomo e della donna cioè lui ha la funzione di proporre o di porre davanti l'alternativa a ciò che ha proposto Dio una proposta alternativa allora prendere non prendere prendere non prendere qual è la decisione giusta da prendere allora il libro di Giobbe si presenta adesso in questo modo si è in attesa della parola di Dio ma la parola di Dio adesso arriva in due modi differenti arriva in maniera indiretta e in maniera diretta la maniera indiretta la troviamo nei capitoli da 32 a 37 dove un giovane chiamato Eliu si dice che non ha parlato fino a quel momento perché gli anziani con i capelli bianchi così hanno la sapienza dice io ascolto però di fronte al fallimento della sapienza degli anziani allora dice qui io fremo fremo e uno spirito dentro di me mi spinge a parlare allora si dice uno spirito dentro di me mi spinge a parlare chi conosce la Bibbia sa che ci sono dei personaggi nella Bibbia che parlano sotto la spinta dello spirito e quando parlano non dicono Dio dice dicono io ma l'io non è l'io di quello che parla ma l'io di Dio quindi parlano al posto di Dio la loro parola è parola di Dio e questi personaggi vengono chiamati profeti sono i profeti per cui l'io si presenta come un profeta tanto più che tra i vari personaggi che abbiamo incontrato fino adesso è l'unico che ha un nome ebraico perché né Giobbe né i tre amici avevano un nome ebraico e eriù chi richiama elia u elia il anche nella trasfigurazione nel racconto evangelico della trasfigurazione si dice elia e mosè elia rappresenta i profeti mosè la legge quindi si presenta come un profeta quindi le parole che dice si presentano come parole di Dio mediate dal profeta nei capitoli da 38 in poi invece è Dio stesso che appare a Giobbe e parla a Giobbe quindi lì abbiamo la parola diretta di Dio quindi di fronte a Giobbe ma anche di fronte al lettore del libro di Giobbe di fronte a noi è posta la scelta di ascoltare la parola di Dio mediata o ascoltare la parola di Dio immediata cioè diretta per quella che riguarda il discorso che è lungo quanti sono sei capitoli del nostro amico Edio già Ravasi 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 commentario imponente al libro di Giobbe dice è un commento è il primo commento al libro di Giobbe in fase di introduzione dicevamo è stato aggiunto in un periodo successivo non troppo riguardo alla parte centrale cioè la parte che riguarda i discorsi di Giobbe con gli amici il monologo di Giobbe ma anche i discorsi di Dio che con tutta probabilità nella versione precedente al capitolo 31 quando Giobbe aveva lanciato la sfida a Dio veniva subito il capitolo 38 e Dio a Faria e parlava ora è stato aggiunto un poco tempo dopo quella parte e Ravasi dice è un commento è un commento che ha una funzione oltre a quello che stiamo dicendo adesso ma in riferimento alla parte antecedente sia ai discorsi di Giobbe con gli amici sia ai discorsi che farà Dio vuole porsi come in una posizione intermedia per moderare perché di fronte alla religiosità tradizionale ciò che veniva fuori dall'opera diciamo del poeta nella prima metà del quinto secolo quello che troviamo appunto nei capitoli da 4 27 29 29 31 e 38 42 c'era uno stridore un Vaticano terzo diciamo si passava dal Vaticano primo o dal concilio di Trento al Vaticano terzo cioè quindi c'era un po' così e allora dice cerchiamo di di moderare un po' di moderare un po' per cui alle affermazioni di Giobbe e degli amici di fronte alle affermazioni da ragione agli amici da ragione agli amici da torto a Giobbe poi da ragione a Giobbe e da torto agli amici Elio fa un po' da moderatore ma dal punto di vista del messaggio è che come dicevo Ravasi dice nell'insieme poi del libro cerca di attutire la forza di di affermazioni di certe affermazioni abbastanza forti abbastanza rivoluzionarie e questo allora ci porta proprio a dire che tornando al discorso che facevo prima che ora Giobbe i lettori noi ci troviamo di fronte alla scelta dobbiamo ascoltare la parola di Dio e la parola di Dio viene proposta in due modi attraverso l'Io e attraverso Dio stesso la diciamo il paradosso che nella realtà non è così lontano dalla realtà è che i lettori del libro spesso e volentieri si scelgono la parola di Dio mediata da Elio e non la parola diretta di Dio questo perché si accetta magari la parola di Dio così come la pronuncia Elio o comunque c'è timore di ascoltare la parola diretta di Dio perché in un modo o nell'altro la parola indiretta di Dio non ci scuote non ci mette tanto in crisi sì magari è spettacolare è così colpisce la fantasia colpisce i sentimenti colpisce così ma non ci dà pugni nello stomaco come la parola di Dio come la parola diretta di Dio quella ci chiede proprio di convertirci proprio sì ecco allora la parola che non ci chiede un cambiamento vero non ci mette veramente in crisi noi la preferiamo penso penso che